Bene raga, dunque eccoci ritornati con un nuovo video, si parla oggi di Salernitana Salernitana arriva alla seconda sconfitta in campionato dopo quella subita contro la Spal quindi perdiamo al Rigamonti di Brescia 3 a 1 il Brescia praticamente ha chiuso la pratica nel primo tempo, nei primi 20 minuti veramente è andato in gol dopo 3 minuti con Van Delooy e roba del genere poi Spalek raddoppia, poi la Salernitana ha avuto un piccolo scatto di orgoglio ha trasformato il rigore che per me era inesistente ma ho visto i vari blog Granata penso che quasi tutti i tifosi siano d'accordo, un rigore regalato ne prendiamo atto, ci fa piacere, ha segnato Tutino e poi la chiusa a Bjarna sono un quarto d'ora della fine sul 3 a 1 è un Brescia che comunque ragazzi ci ha dominato dobbiamo essere, guardare in faccia l'età, essere sinceri in Brescia ci ha dominato tutta la partita ho visto un po' le statistiche pure ha fatto 21 di rimporta ne ha fatto 3 gol ne poteva fare benissimo anche il quarto, addirittura il quinto quindi una Salernitana che è stata proprio annullata dal Brescia un Brescia che stava in crisi cambio di allenatore giovedì è arrivato Dionigi e tac, scatto d'orgoglio e ci siamo finiti dentro noi magari l'avessimo incontrato la settimana scorsa e avremmo vinto, non lo so però con i sé, con i ma e col senno di poi non si fa più nulla e quindi prendiamo atto di questa seconda sconfitta restiamo primi perché il Cittadella ha battuto 2 a 0 al tombolato la SPAL dunque grazie al Cittadella che noi abbiamo battuto la settimana scorsa a Salerno siamo ancora primi, almeno fino a martedì però ragazzi parliamoci chiaro sono squadre più blasonate di noi, più forti di noi noi non siamo da primo posto l'ho sempre detto ma credo che anche voi comunque nonostante un ottimo allenatore Castori bravi giocatori come Tutino, come Djuricic Belec, Gjomber, giocatori di esperienza però ci sono squadre come alla lunga usciranno poi le squadre blasonate quelle che solteranno il campionato quelli che vogliono salire in Serie A a differenza del nostro presidente quelli che vogliono salire in Serie A che sono praticamente a mio parere Chievo-Verona la stessa SPAL lo stesso Brescia e Lecce queste sono le squadre che sono più attrezzate poi potremmo essere un outsider noi come lo può essere il Cittadella come lo potrà essere il Venezia però parliamoci chiaro al momento ci godiamo questo primo posto ma sinceramente ci credo poco e nulla e poi il calcio ci sono i miracoli e speriamo nel miracolo però vediamo un po' io vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo video e forza sanità ciao aglio